C'è Ciao amici addicts to games e benvenuti in questo nuovo video io sono mi chiede a tu qui stai C'è stefania insieme a noi nuovo Unboxing ok prego fa vedere i pacchi che sono arrivati uno con di hl Cos'è questo è un periti line anche questo periti line è l'ultimo sempre via L con non far cadere la fotocamera e ho pagato quanto pagato 25 euro di dogana non mi distruggere gli oggetti che stanno dentro per favore Brava stefania ma che t'hanno fatto i pacchi ma non più ci L'ho vista malissimo attenta faccio io va Bravo cosa abbiamo qui dentro Che cos'è è un led ho detto io della fame che non so come si apra Tu ne idea vai tiralo fuori Scusate beh ok ho una power bank vediamo se funziona No non funziona ragazzi è luce fu a ci sono varie intensità di luce 3 4 Molto comodo da attaccare la usb Usare per illuminare la tastiera ad esempio se la vostra tastiera non è retroilluminata trattata Dei mini ventilatori usb perché parli abbassa voce apriamo solo uno perché sono uguali anche se avevo scelto due colori diversi Sono sempre show me ragazzi vi ricordo che trovate tutti questi prodotti dove Linki descrizioni la mini elica Vai mettila dentro Oddio non ce la farà non ce la farà nemmeno mette un'elica se l'hai fatta Forse perché la stai avvitando Basta premerla Purtroppo io l'ho presa così Oddio ragazzi guardate Ora quanto vento fa che è piccolino ma fa un sacco di vento costa pochissimo due tre euro mette il dito Ok no ma cosa non fa ma è fa abbastanza vento lo lascia così che altro c'è qua dentro vai L'ultimo pacco qua dentro Tutta roba show me oggi ragazzi il rasoio da uomo rasoio da uomo show me quello nuovo con tre lame ok è un rasoio classico Vuoi lasciarti la barba? No grazie cosa c'è qui dentro ci sono due una cosa Tutto asciutto show me tutto gear best ragazzi pacco precedente era tutto show me anche questo show me vediamo se guardate ragazzi il me della show me Sono le cuffie da gaming della show me 7.1 sia jack sia usb potete scegliere come collegarle e hanno anche il microfono con soppressione del rumore Veramente fighe molto bene ragazzi guardate belle penso che si possano si regolare o Molto belle ragazzi questo è sicuramente le vedrete più avanti in una recensione qui dentro c'è Tata un altro pacco Ora prima c'è un altro pacco e lo soffermi il naso poi da prendere un pozzore Perché mi lascia qua Da ragazza un altro show me me to mini drone E il secondo lo serò per fare le battaglie aeree con stefania no Faglia impara usare un drone Imparerà con questo il pacco più grosso ragazzi questo lo apro io stefania mi dispiace a me l'onore Vediamo cosa c'è qui dentro vai Un altro pacco dentro al pacco Oddio ragazzi si era interrotto il video durano massimo dieci minuti in 4k non me ne ero accorto comunque Dal pacco strano sono usciti questi che non ho idea di cosa siano Guardate sono strani se dovrebbero essere delle ciabatte tipo delle pantofole non so come definirle Da mettere ai piedi l'altra cosa nel pacco era questo un videoproiettore che io non ho mai richiesto Non ho idea di che modello sia sono tanti cavi hdmi telecomando av Cavo d'alimentazione complessa italiana eccolo qui a è un videoproiettore Fai vedere no ora fai vedere alza il piede c'è Guardate è un videoproiettore dell'alpha wise bello Importante con la ghiera del focus vari comandi vabbè comunque faccio una recensione perché volete vedere qualche proiettore sul canale quindi Lo vedremo insieme ma ok ragazzi ecco la bellissima immagine di stefania che cerca di indossare quelle cose vi lasciamo Trovate tutti i link per acquistare che schifo tutti per acquistare queste cose conosciute e non conosciute qui sotto in descrizione Insieme link per entrare su telegram canale offerte canale instagram gruppo facebook entrate numerosi e lasciate Un bel like vado che schifo vado alla barba chiudi chiudi il video Lasciate un bel like un commento e condividete il video A chi? A gli amici che chi è pure i parenti alle nonne Ciao ragazzi Ciao ragazzi